Siamo in una bellissima sala della Banca dello Stato. Io sono Francesca Gemnetti, sono la segretaria generale della Corsi, oltre che un'appassionata bellinsonese, quindi sono molto contenta oggi pomeriggio di trovarmi qui con voi a Bellinzona per presentarvi un pomeriggio dedicato a dei temi che coniugano la radio con la salute e con il benessere. Saluto Giorgio Soldini, prima di tutto, che come Municipale di Bellinzona ha voluto onorarci della sua presenza, poi gli darò brevemente il microfono. Saluto la Presidente di ATTE, Avvocato Balestra Bianchi, che ho conosciuto anche in tempi più giudiziari. Saluto la segretaria di ATTE, Marianne Villore, che anche lei ha contribuito in collaborazione con i responsabili di Pro Senectute e con Generazione e Sinergie a organizzare questo ciclo di serate, pomeriggi più che serate. Avevamo cominciato lo scorso anno a Mendrisio, più o meno in autunno, in una serata, mi ricordo, che pioveva piuttosto... Poi ci siamo trovati invece in un bel pomeriggio quasi estivo di marzo-aprile per un altro di questi pomeriggi a Lugano e adesso chiudiamo questo ciclo trovandoci qui a Bellinzona con grande piacere, anche per incontrare un pubblico giovane, vi dicevo Generazioni e Sinergie, era anche l'idea di fare incontrare un po' le varie età e quindi abbiamo il piacere di avere ospite oggi anche la Scuola Superiore Specialistica, SSS, giusto, degli infermieri, che vorremmo anche un po' coinvolgere in questo dibattito. Un dibattito che si propone appunto di sentire anche dal pubblico, quali voi siete della nostra radiotelevisione, che cosa gli piace, che cosa non gli piace sul tema salute e benessere trattato dalla radiotelevisione. Lo facciamo, vedrete, in un modo anche un po' ironico e provocatorio, grazie alla nostra bravissima Maria Rosa Mancuso, che è un'altra chicca bellinzonese, perché andavamo a scuola insieme e anche tutti ritrovi praticamente oggi a giocare in casa. Lo facciamo con la professoressa Scanziani, che è stata anche un po' l'anima di questa serie, di questo ciclo di conferenze, e con due esperte, direi di grido, comunque abbastanza conosciute, sicuramente nel nostro cantone molto conosciute, la dottoressa Pezzati e la dottoressa Fra Giacomo, e lo facciamo con un rappresentante della nostra radiotelevisione, che spesso non c'è bisogno di presentare perché si traveste, il nostro amico Paolo Guglielmoni. E lui oggi sarà quello che potrete prendere un po' a torta in faccia se non vi piacciono i programmi della radiotelevisione. Con moderazione. Con moderazione. Volevo solo ricordarvi appunto che la Corsi cerca, e la cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana, molti di voi sono già nostri soci, ma cerca proprio di creare dei collegamenti, dei ponti con la radiotelevisione, affinché ci sia anche un dibattito su che cosa il pubblico si aspetta dalla radiotelevisione e rispettivamente possa sentire che cosa la radiotelevisione fa su certi temi, su certi argomenti che interessano al pubblico. Quindi ci rivedremo poi alle quattro e un quarto, quattro e mezza, al termine di questo pomeriggio per un rinfresco. Chi di voi vorrà una piccola merenda al Prisma qui da basso. E chiedo a Giorgio se vuol dire qualche cosa a nome della città, visto che hai affrontato la trasferta. Grazie Francesca. Gentile signore, gregi signori, a nome del municipio vi porgo il più cordiale saluto a questa giornata. Questo dibattito da un tema estremamente interessante, benessere e salute. Mi è stato chiesto di essere breve, e lo sarò come mia abitudine, ma permettetemi di dire che mi fa particolarmente piacere essere qua con voi almeno per due o tre buone ragioni. La prima perché credo che il tema che andrete a discutere e a dibattere è un tema estremamente interessante. Credo che sono due parole estremamente importanti della nostra vita quotidiana, benessere e salute sono quelle cose che tutti noi vorremmo avere. La seconda perché è innegabile, si sa, la speranza di vita sia allungata e di conseguenza queste due cose devono estremamente essere condivise e devono collimare tra di loro. La terza invece è quella che mi sento di ringraziare in particolare Francesca perché so che tu sei sempre molto vicino alla città, a noi fa molto piacere e quindi ti ringrazio perché riuscire a smuovere, sapere che la corsa è qui da noi, è avarcato il ceneri, a noi fa piacere. Più spesso venite, più noi siamo onorati, per cui ti ringrazio di cuore per questo. Io non voglio dilungarmi troppo, sicuramente ci sarà un dibattito che andrò a seguire in parte, purtroppo non posso seguirlo tutto perché devo rientrare, oggi abbiamo seduta municipale e ahimè essendo l'unico rappresentante PPD devo purtroppo seguire tutto quello che avviene. Quindi io vi auguro buon lavoro e tanti auguri a tutti. Grazie mille di seguire una parte. Grazie. Buongiorno allora, buongiorno, io sono Maria Rosa Mancuso, vi ringrazio per essere intervenuti. Spero che troviate interessante questo pomeriggio che vuole affrontare il tema che si potrebbe riassumere così. La medicina ci ha aiutato, ci aiuta continuamente ad aggiungere anni alla vita quello che è importante anche è aggiungere vita agli anni, stare bene, stare bene fisicamente, stare bene mentalmente. e noi parleremo di tutto quello che ci può aiutare, compresa la letteratura, perché la letteratura è un aiuto prezioso. Abbiamo imparato a leggere quando siamo ragazzini, magari per sfuggire alla noia, ma è una compagnia che resterà con noi tutta la vita. e siccome oltre che di letteratura mi occupo di cinema, io vorrei introdurre questa chiacchierata. Intanto vi ricordo che è una chiacchierata, ma in qualsiasi momento vogliate intervenire, alzate la mano, questo vale per il nostro pubblico e vale anche per la classe della scuola superiore specialistica per le cure infermieristiche che è con noi, dicevo del cinema. Anche il cinema ci fa compagnia e poi ci suggerisce situazioni. Capita spesso quando chiacchieriamo, quando conversiamo di dire ti ricordi quella scena, ti ricordi quell'altra scena, quindi ho preparato tre piccoli brevi clip, tre piccoli brevi contributi. Il primo viene, secondo me, da uno dei film più belli, esagero, ma non tanto, che siano mai stati fatti. Si chiama Up, è un film a disegni animati, è un film della Pixar e nessuno lo voleva fare perché dicevano, ma come? Un film d'animazione, che è una cosa che di solito si pensa per i bambini, un film d'animazione con un anziano per protagonista, non incasserà una lira sbagliato, ha incassato un sacco di soldi ed è un film veramente bellissimo e molto commovente. Partiamo allora con una scena. Io faccio anche il tecnico, quindi spero che parta tutto perfettamente. Sì, Ah! Grazie a tutti Grazie a tutti Spegni una, accendi l'altra Questo era il film Questo era App Io vi ricordo le persone che sono con noi Per parlare di questo tema Maria Giuseppina Scanziani Che è scrittrice È stata insegnante Che ci aiuterà a raccontare Un po' la salute e il benessere Dal punto di vista letterario C'è Claudia Fragiacomo Che è farmacologa E specialista in scienza dell'alimentazione Ci pensavo quando vedevo La scena di Friedrich Così si chiama il protagonista Che apparecchia al tavolo della colazione C'è con noi Rita Pezzati che è psicologa Insegna Alla SUPSI E c'è Paolo Guglielmone Buongiorno anche da parte mia Magari spiego perché sono arrivato Ad occuparmi di anziani E non solo di macchine Da far passare in dogana Perché Dopo anni a rete 3 Sono passato a rete 1 Nel 2013 E del tutto casualmente La persona che si occupava Del dossier anziani È passata ad altri Ad altri incarichi E io ho ripreso questo dossier E mi sono appassionato È diventato subito qualcosa Di estremamente interessante per me Come curiosità Personale Poi mi piacerebbe parlare anche Del perché il servizio pubblico Deve occuparsi di anziani Adesso tra un attimo lo faccio Però Giusto per dire Che ho Organizzato una riunione Con atte e prosenectute Per capire se si potesse Creare una sinergia Di contenuti E di offerta Alla RSI Anche con chi già Si occupava di anziani Non per farmi dettare La scaletta e l'agenda D'atte e prosenectute Ma per Ci mancherebbe altro Domandare a chi è davvero esperto Qual è la sua esperienza Questo mi sembra Un punto di partenza Di curiosità personale Dovuto nel nostro mestiere Cosa fa la RSI Per la salute E il benessere Degli anziani Allora Lei con lo sguardo Mi dice poco No no Non ha mosso paglia Mi scusi signore Si lascia sorprendere Allora Cominciamo con Con la televisione La televisione Alle viste C'è la riproposizione Di questa trasmissione Che parla di salute Trasmissione in In prima serata Che parla di salute Che una volta Faceva Valeria Bruni Magari qualcuno Se la ricorda C'è l'idea Di riproporla Naturalmente La trasmissione Sulla salute Non parla solo Agli anziani Parla tutto il pubblico Ma sappiamo che interessa Particolarmente Il pubblico anziano Però magari una cosa Che non sapete Magari sorprendente È che L'età media Delle persone Che guardano La televisione Svizzera italiana È di 58 anni Vuol dire Che c'è Una grandissima parte Per fare questa media Di over 65 Che già gradiscono I nostri programmi E che già si ritrovano Nei nostri programmi Un'età media Alta Rispetto anche Ad altre televisioni Di 58 anni Vuol dire che Non abbiamo bisogno Così è questa La strategia Della nostra televisione Non abbiamo bisogno Di fare Delle trasmissioni A doppio binario Trasmissioni apposta Per gente Per persone Per meglio dire Che hanno più Di 65 anni E trasmissioni Apposta Per gente Persone Che hanno meno Di 65 anni Vorrebbe dire In qualche modo Fare delle trasmissioni Ghetto Vorrebbe dire Non essere Una televisione Generalista Dal momento Che i nostri programmi Già vengono Comunque Apprezzati È chiaro Che poi so Che quando vengo In queste occasioni I telefilm americani Non piacciono Granché Al pubblico anziano Giustamente I gusti Vanno rispettati Però Quello che ci si è detto A parte casi speciali Come poteva essere L'avventura Di Eugenio Elmini Con il gioco Dei ricordi Che magari Qualcuno di voi Avrà visto L'idea è di dire La televisione Non per forza Ha bisogno Di interpretare I desideri Degli anziani Con delle trasmissioni Ad hoc Perché già Sono ben rappresentati Tra il nostro pubblico La radio È un discorso Completamente diverso Io vengo Dalla radio Nella radio Le persone vogliono Sentire la loro voce La radio È uno strumento Molto più Interattivo Molto più Dialogante Della televisione E le persone Vogliono essere Rappresentate Allora Certo Qui rappresento Rete 1 In questo caso Noi Abbiamo La consulenza Inerente alla salute Il lunedì Abbiamo la consulenza A tema anziani Il martedì Che è riniziata Proprio questo mese Che sta per iniziare A ottobre Però Ho riflettuto Proprio su Cosa portarvi Come esperienza Anche così Come Come comunicatore Qui in questa sede Quello che possiamo Veramente fare Per la salute Tutto il benessere Assolutamente Rappresentare La voce Degli anziani Come Con Tutta una serie Di offerte Per esempio A ottobre Il 16 ottobre Proprio con Latte Noi come Rete 1 Saremo al palazzo Dei congressi Per una Mille voci Speciale Dal palazzo Dei congressi In cui parleremo Di uno Dei grandi Temi Che Stanno Appunto Muovendo Un po' Tutte Tutte Le Riflessioni Dei politici Degli urbanisti Attorno Agli anziani Che è Abitare Anziano Cioè La casa È il nostro Bene primario Però Nessuno Pensa Fare una casa Per quando Sarà anche Un po' Più fragile Per quando Ci saranno Delle esigenze Eccetera Eccetera È un tema Che sta appassionando Immobiliaristi Architetti Politici E ne parleremo L'idea È comunque Rappresentarvi Cioè Far capire Che non c'è Da parte del servizio pubblico La volontà Di continuare Una politica Dell'esclusione Che penso Da quello che ho Percepito In altre occasioni Come questa Penso che voi sentiate Qualche volta O spesso Il servizio pubblico Deve fare sentire La vostra voce Deve permettervi Di parlare Anche semplicemente Intervenire a mille voci Su un tema A voi caro E dire la vostra Ma deve ecco Anche darvi Degli spazi In cui Raccontarvi Questo Ve lo deve Proprio per Dare un'impressione Di una società Coesa Non di una società Sbrindellata In cui I giovani Vanno tutti da una parte Gli adulti Della mia età Invece vanno tutti Da un'altra Degli anziani Da un'altra ancora C'è bisogno Veramente Di coesione Ed è anche questo Uno Dei capitolati Del mandato Di servizio pubblico Rappresentare la società Come una collettività E non come un gruppo Di individui A parte Grazie 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 a Paolo Guglielmoni Vi ripeto Potete intervenire In qualsiasi momento E già adesso Se Gli allievi Della scuola superiore Per le cure infermieristiche Hanno qualcosa a dire Hanno qualche commento Da fare Sono i benvenuti Qualcuno Ne voglia Ecco Il nome Grazie Salve Sono Leo Un allievo Della SCI Buongiorno Volevo chiedere Delle illuminazioni Su L'argomento Che mi Interessava Precchio Che Diceva prima Che la gente Non vuole più Costruire delle case No Noi faremo Una Una trasmissione Speciale Che sarà anche Il tema Della giornata Intercantonale Della persona anziana Il palazzo dei congressi di Lugano Organizzata dal latte Ci sarà anche Rete 1 L'idea che la casa È un bene primario Per cui alla fine Quando uno decide Di costruire una casa La costruisce Pensando all'età Che ha in quel momento Cioè Metti Io ho 44 anni Ho una bambina Una moglie Adesso decido Di uscire dal mio appartamento Di costruire una casa Non la costruisco Pensando a quando Avrò 85 anni La costruisco Come piace a me In questo momento E come la ritengo Dinamica Per la fiamma Lei ride La mia famiglia In questo momento Il problema È che in quella casa Probabilmente Magari Se 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 Capita Invecchierò E dovrò viverci E a quel momento Avrò delle barriere Architettoniche Delle limitazioni Che mi Impediranno Di vivere Nella casa Che io stesso Ho costruito Questo è uno Dei temi Che in fondo È quello che abbiamo visto Nel film Quando Fred Scende Montascale O scendiscale E Montascale Poi si blocca Esattamente E qui la bavura Del regista E anche Il senso Proprio Dei tempi comici Si blocca Esattamente Come gli si era bloccata La spalla Scendendo dal letto Un colpetto a una Un colpetto all'altro E si risolve tutto E l'altro aspetto Molto interessante Di cui poi Magari si può parlare A parte Anche con persone Competenti Adesso vedo qui Gabriele Fattorini Prosenectute O Marianne Villare Agnese Valesta Bianchi di Atte È che ci sono Cioè adesso Grandi complessi Residenziali Per anziani Integrati Con la possibilità Di avere tutti i servizi Vicino Anche i servizi medici A portata di mano Che vengono in casa tua Eccetera Diventano anche un affare Per gli immobiliaristi Cioè non è più solo Lo Stato che deve costruire Se vuoi residenze Per anziani O case anziane Ma c'è la possibilità Anche per Diciamo Molte virgolette Parola Speculatori Immobiliari Di dire Può essere un affare Costruire delle residenze Per anziani Cioè un invecchiamento Progressivo È un dato di fatto Le persone invecchiano E quindi creare Comunque questi complessi Residenziali Integrati Dove gli anziani Hanno a disposizione Tutto E possono anche Essere aiutati Se non sono completamente Indipendenti Diventa una realtà Immobiliare Nuova Di cui si sta parlando Adesso E di cui parleremo Anche in questa giornata Speciale Maria Giuseppina Scanziani Io sono sempre Incuriosita Quando le do la parola Perché ogni volta Questo è il terzo appuntamento Così Ci sono delle sorprese Letterarie Ci sono delle belle scoperte Ma soprattutto Ci sono delle sorprese Quindi io Le darei la parola Subito Grazie Maria Rosa Io sono In queste riunioni Non so se conoscete Il giochino Guarda questo disegno E trova L'elemento Che non c'entra Sono l'elemento Che non c'entra Nel senso Che le persone Che stanno Alla mia destra Sono delle esperte Di salute E benessere Io invece Sono un'esperta Di letteratura E già dal primo Dei nostri incontri In cui abbiamo parlato Di solitudine E isolamento Abbiamo abbinato Letterariamente La solitudine E l'isolamento Con la poesia Pensando che la poesia Sempre In ogni età È una grande Consolazione Nel caso Di solitudine E isolamento Nella seconda Delle nostre Riunioni Che Ricordo Sono Intergenerazionali Perché Finora Abbiamo parlato Solo Di anziani E io Il primo appunto Che mi sento Di fare Alla RSI Che di salute E benessere E si parla Tanto Soprattutto Alla radio Ma riguardo Soprattutto Agli anziani Oppure Alle persone In generale Ben poco Si parla Di giovani Forse Perché si ritiene Che i giovani Siano i depositari Della salute Forse Perché si crede Che non siano Coloro Che invece Più di ogni altro Possono assumere Dei comportamenti A rischio Per la salute E voglio Buttare A Paolo Gervasoni Questa Palla Sperando Che la classe Che io ho incontrato Prima ancora Del nostro Incontro Qui Di oggi Possa intervenire Su questo aspetto Cosa si aspettano I giovani Che notoriamente Guardano poco La televisione Età media 58 anni Fa paura Cosa si aspettano Dalla radio E dalla televisione Cosa sarebbe utile Che la RSI Facesse O cosa sarebbe interessante Può farlo Secondo voi Può non farlo Oppure un mezzo Che considerate Totalmente superato A vantaggio Di Facebook E dei social media Di quelli Che vi danno L'interattività Anche dell'immagine Non solo Come ha detto Paolo Gervasoni Della voce Comunque Torniamo al mio ambito Che è l'ambito letterario E per la salute Il benessere L'ambito letterario È quello Della saggistica Non è più Quello della poesia Non è più Quello Della letteratura Comica Del racconto comico Del romanzo comico Di cui abbiamo parlato Nella seconda Nel secondo nostro incontro Sulla libertà Sia per il giovane Che per l'anziano È quello Della saggistica Io a conclusione Di questo nostro ciclo Di incontri intergenerazionali Mi prendo Una confidenza Mi prendo Un Qualcosa Come diceva Maria Rosa Mancuso Che non ci si aspetta E mi riferisco Una volta tanto A un'esperienza Personale Un'esperienza personale Che ha Come sfondo La salute Il benessere E che riguarda Tre volumi Che sono L'arte della longevità L'arte della giovinezza Qui non si dimentica L'arte della guarigione Volumi scritti Da qualcuno Che io ho conosciuto bene Che si chiamava Piero Scanziani Ma scritti anche In relazione A tutta una serie di viaggi Che noi abbiamo compiuto Intorno al mondo In cui si raccoglievano Sulla salute Sul benessere Proprio Quelli che erano Le espressioni Della saggezza Dei vari popoli O delle varie personalità Poi da questi tre libri Io ne ho scritto Un quarto Che è Nella stanza Dei bottoni Dove la tecnica Che è Legata Che è Espressa Narrativamente Nei primi tre Viene esposta Sistematicamente Affinché ciascuno Se la possa Mettere in pratica Questi tre libri Si legano Anche in un certo senso Alla radio E la televisione Perché Durante quei viaggi Spesso Realizzavamo Soprattutto per la radio Dei documentari Me ne ricordo Uno Ad esempio Sui bambini Dell'India Ed era un'esperienza Molto bella Va detto Come ho detto ieri In radio A rete 1 Che io amo molto La radio E la televisione Perché la radio E la televisione Sono degli strumenti Insostituibili Importantissimi Noi invitiamo Nelle nostre case I nostri amici Non tutti Però Nelle nostre case Raramente Mancano la radio E la televisione Quindi Sono degli strumenti Di una grande potenza Che possono intervenire Anche Nella L'ambito Della salute E del benessere Per costruire Qualcosa Che per noi È importantissimo Per la vita futura In questi Tre libri Fulcro Di tutti Questi tre libri È una tecnica Che si chiama Psicognosis È una tecnica Vuol dire quindi Una pratica Non una teoria Psichica Che sfrutta Delle autosuggestioni Positive Che noi Possiamo insegnare A dare La nostra psiche In due momenti Della giornata Alla mattina E alla sera Nei momenti Di dormiveglia Quella Che i psicologi Chiamano Zona Senza Sforzo Quali sono Delle frasi Che possono Rendervi attenti Sul contenuto Di questi Libri E su ciò Che essi Ci insegnano Ci insegnano Una cosa fondamentale Che io credo Da che cosa Dipende La nostra salute E il nostro benessere Dipendono Sicuramente Da questa schiera Di illustri medici Che abbiamo intorno Capacissimi Quasi capaci Di curare Ogni malattia Anche se ogni tanto Spunta qualche cosa Che non funziona Tipo l'ebola Per stare Alle Ultime cronache Ma dipendono Soprattutto Dal nostro Stato Interiore Ormai si sa Per certo Che Chi ha Uno stato Interiore Positivo Un atteggiamento Positivo Verso la vita Guarisce Più facilmente Se è malato E più Difficilmente Si ammala Se è sano Per darvi Un'idea Vi leggo Qualche frase Tratta Qua e là Da questi Libri I nostri guai Non ci vengono Come sembra Da fuori Ma da dentro Se ci Cambiamo Dentro Cambiamo Fuori La paura Genera Le paure Se le snidi E le metti In fuga Vedrai Sorriderti Ogni fortuna Ottieni Dentro La certezza E fuori Il mondo Ti si offrirà Cosa ci insegna Questa Psicognosis Ci insegna A sottrarci Alle suggestioni Negative Che ogni giorno Noi Riceviamo A partire Dai telegiornali Che in questo periodo Poi soprattutto Di crisi economica Di guai Assalti Di estremisti Di ogni tipo Rallegrarci Non ci rallegrano Per niente Nell'arte della longevità C'è un aforisma Importante Per quanto riguarda La nostra salute Che non dovremmo Mai dimenticare Non siamo Un corpo Abbiamo Un corpo E tutto Un altro modo Di guardare Alla nostra realtà Di esseri umani Il caso Non esiste Nell'universo Non c'è il caos Ma l'ordine Ogni respiro È ordinato È ordinato Ogni amore Gli eventi Si susseguono Secondo le regole Ogni astro Ha la sua orbita Ogni madre Prepara L'avvenire Dietro ognuno Si manifesta Una mira La vita universale Ha un'intenzione È un progetto E noi vi partecipiamo Nell'arte della giovinezza Che racconta La storia Di un gruppo Di venti Giovani coppie Sui vent'anni Proprio come i nostri Giovani Che sono qui Presenti Che si ritrovano A St. Moritz Per redigere Insieme Con i frutti Delle loro ricerche In vari settori Compreso quello Dell'alimentazione Un manuale Nell'invisibile Sta quel che davvero Conta Sono invisibili I nostri sentimenti E pensieri I ricordi E le speranze Le aspirazioni Le certezze Le certezze E invisibile La felicità I nostri progetti Passano continuamente Dall'invisibile Al visibile Tramite il corpo Che gesticola Pronuncia parole Traduce L'invisibile Vicino a me Naturalmente E che è ancorata Soprattutto al passato Il gioco dei ricordi Il gioco dei ricordi Ha ricordato Paolo Guglielmoni Ho partecipato anch'io Il gioco dei ricordi Insieme a Yelmini La generazione Dei giovani Che è tutta Proiettata Verso il futuro Però Quello che conta È essenzialmente Il presente Perché noi Viviamo nel presente Anzi Per pensare Al passato Lo dobbiamo riportare Al presente Se no Non esiste Il futuro Poi non esiste Per niente Allora dobbiamo Renderci conto Di questo presente E vivere Lientamente Questo presente Così come Ci appare Nel libro Si insegna Un esercizio Che voi potete Divertirvi A mettere in pratica Richiede tre minuti Al mattino Nel letto Prima di buttarvi giù Anche i giovani Con la sveglia Che vi Porta a scuola Le varie occupazioni Si presta attenzione Al proprio respiro E mentre Questo respirolo Si sente andare Avanti e indietro Nelle narici Si dice Sono vivo Sono vivo Sono vivo Che è una grande felicità Dell'essere Dopo un po' La quiete Ci addolcisce Spesso Ogni peso E può arrivare Fino Alla letizia Quanto All'avvenire I suoi problemi Lo sappiamo I psicologi Ce lo insegnano Li affrontiamo Uno per volta La cosa però Più importante È imparare a ridere Voi sapete Che esistono Sempre più Le terapie Del sorriso Se io vi chiedessi Quanto avete riso Oggi Meno male Un sacco Cosa vuol dire In minuti Sì Cinque minuti Dieci minuti Passi a ridere Tutto il giorno Meno male Certo Sì È indicativo Che parliate solo voi E che gli altri Non dicano niente Perché agli altri Ridere costa molto di più Però È veramente Terapeutico Ridere E allora Ci sono molti consigli Acquistare una biblioteca L'abbiamo visto In uno dei nostri incontri Di scrittori Comici Vedere film Che ci inducono Al sorriso Avere una compagnia Dell'ottimismo Tra un gruppo Di amici Darsi delle regole Per cui Chi si abbandona Pensieri negativi Deve pagare Una tassa In una cassa comune Che invece Propaga Visioni positive Verso la vita Riceve dalla cassa Perché se no Non vale Insomma Paga solo la multa Ma non riceve nessun beneficio L'importante È chiedersi Alla fine della giornata Quello che io Vi ho chiesto Quanto tempo Oggi Ho riso Se il totale Non supera I 15 minuti Stabiliamo Di non mancare Domani Alla nostra cura Di giovialità E vi insegno Un sistema Con ciò finisco Se avete difficoltà A ridere Provate a mettervi Davanti a uno specchio Già Questo fatto Quando si è ragazzi Fa sorridere Ma io ho un amico Che ha anche partecipato A una trasmissione Della Bruni Alla nostra televisione Che fa le terapie Del sorriso Allora Bisogna stare Un minuto A trattenere A respirare bene Prima E poi A trattenere il respiro E poi Espirare In questa maniera In piccoli colpetti E piano piano Si ride Voi provate a farlo Davanti allo specchio E vedrete Che Vi sentirete buffi Vi sembrerà Vi sembrerà Di fare qualcosa Di non E invece Dopo ci si sente Molto meglio Vi saluto Con questo augurio E questo invito Al sorriso Tutti avete preso nota Ne sono sicura Sorridete E il mondo Vi sorriderà Mi viene in mente Robin Williams L'attore scomparso da poco Che è un grandissimo comico E che è anche Diventato famoso Per Per il clown Che gira Il medico clown Che gira Nelle corsie di ospedale Facendo ridere i bambini Patch Adams Si chiamava E adesso Allora L'avevamo visto E sentito al cinema Per la prima volta Adesso sono molti gruppi Che fanno proprio La terapia del sorriso Sia Per i bambini Credo che serva Anche di più Agli adulti Che Così Magari sono un po' Più rigidi Su queste cose Per i bambini